Campionato primavera, andiamo in grafica, ventunesima giornata che ha visto questa domenica scendere in campo diverse squadre, particolare attenzione al 3-1 della Roma e danni del Cagliari, l'Atalanta si impone sul Lecce per 1-0, mentre l'Inter batte l'Empoli 2-1 come leggiamo, Sampdoria Genoa quest'oggi alle ore 18, sempre su Sportina Taglia, il canale 60 digitale terrestre, il derby della Lanterna, Inter che guida 44 punti, Torino e Roma 37, via via tutte le altre, Frosinone che chiude a 13 punti, tutti i gol del campionato primavera segnati in questa domenica. Vince in rimonta la capolista Inter ad Empoli, padroni di casa che la sbloccano, il ventitresimo con Nabyan che controlla un pallone complicato in area e fa 1-0, al sessantesimo il pari Nenazzurro è poi firmato da Berenbruck che con una conclusione sporca sul ponda di Sar fa 1-1, rimonta completata poi da Camatè che con uno splendido sinistro a giro sigla la rete del 2-1, rimonta che riesce anche alla Roma sotto al ventunesimo contro il Cagliari con uno splendido gol da fuori di Marcolini, pari giallo-rosso firmato poi da Matteo Playa che di testa da corner trova l'1-1, in chiusura di prima frazione poi Gioao Costa imbeccato da Oliveras a trovare il gol del sorpasso, con Romano che in avvio di ripresa sigla poi la rete del definitivo 3-1, basta poi una rete di fioppe in chiusura di prima frazione per regalare all'Atalanta tre punti fondamentali in casa di Lecce.